La live di ieri sera qui su YouTube purtroppo ha avuto un po' di problemi, nel senso che è inascoltabile, vale a dire che non c'era abbastanza volume per essere ascoltata e quindi per fortuna su Twitter abbiamo avuto il modo di salvare la registrazione che ho adeguatamente gestito per ottenere appunto l'audio del live di ieri. La qualità è un po' più inferiore rispetto al solito purtroppo credo che sia dovuto al fatto che l'ho estrapolato da Twitter però la live c'è tutta, spero che sia di vostro gradimento, godetevela e noi ci sentiamo in live e starò ben attento che tutto funzioni giovedì 27 ore 21 e 30 per concludere la lettura di Paolo Diacono, storia dei Longobardi. Ciao a tutti e godetevi la registrazione. Senza ulteriori indugi, noi partiamo. Inizio del libro quinto. Grimoaldo, confermato il suo potere a Pavia, non molto dopo prese in moglie la figlia dei re Ariperto, da tempo promessagli e alla quale aveva ucciso il fratello Godeperto. Colmò di doni l'esercito beneventano con l'aiuto del quale aveva conquistato il regno e lo rispedì a casa. Tuttavia trattenne alcuni perché si stabilissero presso di sé, assegnando loro vastissime tenute. Mi fermo subito perché è una cosa interessante, insomma con l'aiuto a conquistato il regno lo rispedì a casa. La necessità di disarmare, tra virgolette, un esercito che hai appena utilizzato per una guerra, è chiaro che potevano essere in un'amministrazione politica, in un'organizzazione politica liquida, come quella dei Longobardi. Avere un esercito armato che aveva appena combattuto intorno a casa propria non era una cosa molto positiva. Finita la guerra, ciao Idkod, non credo di conoscere il tuo nome ma so che giri attorno alla mia TL, probabilmente ci siamo anche scambiati un paio di parole. Ti chiamo Idkod come il tuo nickname, benvenuto, buonasera. Dicevamo, hai un esercito, il tuo obiettivo, questo esercito è chiaramente calmarlo. Lo calmi secondo la tradizione, facendo un sacco di donativi e lo allontani il prima possibile da casa tua, chiaro, per evitare che sia dannoso a te e alla tua causa. E poi ovviamente se si tratta di avere però della gente molto valorosa, molto utile, con delle connessioni politiche magari o delle capacità particolari, la riempi più di doni di tutti gli altri e te la tieni accanto, non si sa mai. Dopo aver saputo che l'esule Prektarito aveva raggiunto la scizia e dimorava presso il Cacano, re degli Avari, per mezzo di ambasciatori gli fece sapere che, se continuò a dare refugio nel suo regno per Ektarito, la pace che fino ad allora c'era stata con i Longobardi, e in particolare con lui, non poteva essere mantenuta. Udendo ciò il re degli Avari, fatto venire a sé Prektarito, gli disse di andarsene dove riteneva opportuno, per evitare che per causa sua nascessero inimicizie tra Avari e Longobardi. Al sentire queste cose, Prektarito si diresse in Italia, con l'intenzione di ritornare da Gremualdo. Aveva infatti sentito dire che era uomo clementissimo. Giunto a Lodi, mandò avanti il più fidato dei suoi fedeli, un Ulfo, che annunziasse il suo arrivo a Gremualdo. Un Ulfo, giunto dal re, gli annunciò che Prektarito veniva rimettendosi alla sua fede. Il re, udendo ciò, gli promesi lealmente che, poiché veniva in sua fede, non gli sarebbe accaduto nulla di male. Di solito, quando ci sono quelle promesse, finisce malissimo. In quel punto stava arrivando Prektarito e fu introdotto da Gremualdo. Mentre cercava di gettarsi ai suoi piedi, il re, con gesto clemente, lo trattenne e lo fece alzare per baciarlo. Gli disse Prektarito, sono il tuo schiavo. Sapendo che sei cristianissimo e pio, pur potendo vivere tra i pagani, ho confidato nella tua clemenza e sono venuto ai tuoi piedi. Il gesto del bacio è particolarmente significativo perché anche nella tradizione politica dei segni e dei simboli successiva, il bacio è sempre uno scambio, una relazione che si instaura tra due pari. Quindi questo si getta ai piedi di uno, Prektarito, si getta ai piedi di Gremualdo per dichiararsi... Ciao Giuseppe, buonasera, benvenuto... ...per dichiararsi suo schiavo. E invece Gremualdo, dando atto di clemenza, lo invita chiaramente prima di tutto ad alzarsi, a guardarsi in faccia e a baciarlo. Appunto perché è un gesto tra pari. Il re, come era solito, gli confermò con giuramento la sua promessa. Ok, qui abbiamo un cristiano che giura, quindi probabilmente non succederà nulla di orribile. Per colui che mi ha fatto nascere, poiché sei venuto da me rimettendoti alla mia fede, non patirai alcun male, ma ti darò una sistemazione tale che tu possa vivere come ti spetta. Allora, offrendogli ospitalità in una casa spaziosa, ordinò che si riposasse dopo la fatica del viaggio e diede disposizioni che dall'erario gli fosse elargito con larghezza il ditto e tutto ciò che gli fosse necessario. Giunto per Tarrito nell'alloggio che il re gli aveva preparato, cominciarono a correre da lui schiere dei cittadini di Pavia, chi per vederlo, chi per salutarlo, avendo di lui una precedente conoscenza. Ma cosa non può aggredire una lingua malvagia? Subito alcuni maligni adulatori andarono a dire al re che se non avesse al più presto eliminato Per Tarrito avrebbe perso il regno e la vita. Per questo, assi arrivano, da lui accorreva tutta la città. Udito ciò, Gremoaldo, fattosi troppo credulo e dimentico di ciò che aveva promesso, si infiamma di dar subito la morte all'innocente Per Tarrito e decide il modo di togliergli la vita l'indomani, dato che l'ora era ormai troppo tardi per fare un assassino politico, aspettiamo l'alba. A sera gli mandò diversi tipi di cibo, vini preziosi e varie qualità di bevande, in modo da poterlo ubriacare, fino al punto che quella stessa notte, senza più forze per il molto bere e sepolto nel vino, egli non fosse più in grado di provvedere alla propria salvezza. Allora uno che era stato un fedele di suo padre nel servire per Tarrito un piatto offerto dal re, chinato il capo fin sotto la mensa, come per salutarlo, l'avvertì segretamente che il re disponeva di ucciderlo. Subito Per Tarrito ordinò al suo coppiere di non mescergli altro che un po' d'acqua in una coppa d'argento, e quelli che gli portavano bevande di diverse qualità da parte del re, secondo l'ordine ricevuto, lo invitavano a buttare giù un'intera coppa di un colpo solo, ed egli, promettendo di berla tutta in onore del re, toccava appena qualche goccia d'acqua del calice d'argento. Mi ricordano alcuni miei amici che mi dico no, no, me l'ho sciotto questo, me l'ho sciotto questo, poi invece sì. E quando i servi riferirono al re... Ciao, Bonne, tu sai chi sei, ti voglio bene. E quando i servi riferirono al re che egli trangugiava tutto ingordissimamente, il re tutto contento rispose Quell'ubriacone beva pure. Domani d'un colpo solo vomiterà questi stessi vini mescolati al suo sangue. Per Ctarito, intanto, fatto venire a sé in tutta fretta un uffo, l'avvisò della decisione del re di ucciderlo. Un uffo mandò subito uno schiavo a casa sua che gli portasse coperte e un materasso, e gli fece preparare un letto accanto a dove era steso per Ctarito. Negri Moaldo perse tempo a inviare le sue guardie con l'ordine di sorvegliare la casa nella quale riposava Pertarito, perché in nessun modo potesse sfuggire. Finita la cena, quando tutti sono usciti, rimasti soltanto Pertarito, un uffo e il vestiarius di Pertarito, qui vestiarius, preferisco lasciare il termine usato da Paolo, esprime un incarico che oggi non trova corrispondenza né col termine sarto né col termine camerero o guardarobiene, ok, sì, deve essere una specie fondamentalmente di assistente, che gli erano fedelissimi, gli espongono il piano e lo scongiurano che mentre Pertarito si dà alla fuga, lui faccia credere il più a lungo possibile che il padrone sta dormendo in quella stessa camera. Egli promette di fare così. Un uffo carica sulle spalle e sulla testa di Pertarito le sue lenzuola, il cuscino e una pelle d'orso e secondo il piano comincia a cacciarlo fuori dalla porta come si fa con un servo villanzone, coprendolo di ingiurie e non cessa di colpirlo con un bastone e di spingerlo, sicché incalzato in tal modo il percorso cade sempre più spesso a terra. Agli sgherri del re che erano a custodia della casa e chiedevano a un uffo che cosa stesse succedendo, egli rispose questa canaglia di un servo mi ha messo il letto nella camera di quello burocano di Pertarito che è così pieno di vino che si è buttato giù come se fosse morto. Ma adesso basta. Ho seguito fin qui la sua pazzia d'ora in avanti per la vita del mio re e signore rimarrò a casa mia. Essi sentendo queste cose convinti che ciò che avevano udito fosse vero si rallegarono e a lui come Pertarito che credevano fosse un servo o che per non essere riconosciuto portava il capo coperto diedero il passo consentendo che se ne andassero. Mentre essi si allontanavano quel fedelissimo vestiario schiuse diligentemente la porta e rimase dentro da solo. Un uffo calò Pertarito con una fune giù dall'angolo del muro verso il Ticino e gli diede come scorta quanti compagni potè. Presi dei cavalli che trovavano al pascolo quella stessa notte Pertarito e i suoi compagni si diressero ad Asti dove gli restavano degli amici e alcuni che si mantenevano oppositori di Grimoaldo. Di qui più in fretta che potera giunse Torino e passate le chiuse d'Italia arrivò in fretta nella terra dei Franchi. Così Ciao Giorgione benvenuto buonasera Così Dio onnipotente con misericordiosa provvidenza strappò un innocente alla morte e salvò da un'azione malvagia un re che di tutto cuore desiderava fare solo il bene. Ma credendo al re Grimoaldo che Pertarito dormisse nella casa in cui lo aveva ospitato fece disporre da essa fino al suo palazzo una doppia schiera di uomini affinché Pertarito fosse condotto in mezzo all'ora e non avesse alcuna possibilità di fuggire. Giunti messi del re per chiamare Pertarito palazzo e avendo picchiato alla porta della casa dove credevano che dormisse il vestiario schiera dentro li pregava dicendo abbiate compassione di lui lasciatelo dormire ancora un po' è ancora stanco del cammino ed è immerso in un sonno profondissimo stanco del cammino qualcuno penserà sì vabbè tu vi hai bevuto tutta notte quelli acquietatesi andarono a riferire al re che Pertarito dormiva ancora profondamente ed egli tanto si è riempito appunto il divino ieri sera che ancora non può svegliarsi tuttavia ordinò che lo svegliassero e lo portassero subito a palazzo ritornati alla porta della casa dove speravano che Pertarito dormisse presero a bussare con maggior violenza allora il vestiario si ricominciò a pregarli che lo lasciassero dormire ancora un po' ma essi adirati urlando che quello buacone aveva ormai riposato abbastanza senza aspettare oltre abbatterono a calci la porta e penetrati nella camera cercavano Pertarito nel letuccio non trovandolo pensano che sia occupato nei suoi bisogni naturali ma non vedendolo neanche lì chiedono al vestiario cosa gli sia successo egli risponde che è fuggito furenti lo afferrano per i capelli e affrostate lo trascinano a palazzo condottolo davanti al re gli dicono che è complice della fuga di Pertarito e per questo degnissimo di morte il re ordinò che lo lasciassero e lo interrogò minuziosamente su come Pertarito fosse riuscito a fuggire egli riferì al re tutte le cose come erano andate allora il re rivolto ai presenti chiese che vi sembra di questo di questo uomo che ha compiuto tali cose tutti a una voce risposero che era degno di morte fra lunghi tormenti ma il re per colui che mi diede la vita disse questo uomo è degno di buona sorte perché non recuso di sfidare la morte per fedeltà verso il suo signore chiaramente il gremualdo da buon cristiano non può che apprezzare una cosa del genere secondo appunto chiaramente i dettami indicati da Paolo e ordinò che fosse subito assunto fra i suoi vestiari esortandolo ad avere verso di lui la stessa fedeltà che aveva avuto verso Pertarito e promettendogli che gli avrebbe elargito molti benefici poi vabbè si potrebbe parlare per un po' anche del fatto che appunto siamo di fronte a una specie di caso giudiziario tra virgolette nel senso c'è questo qui che più o meno è complice di una specie di tradimento abbiamo i fedeli del re il suo corpo armato di protezione che partecipe chiaramente in questo evento giudiziario il re chiaramente è il giudice però nonostante lui sia il vertice della giustizia deve comunque rendere conto alla realtà di fatto quindi cosa deve fare deve comunque interagire con coloro che gli sono fedeli la giustizia non è un affare che il re può gestire completamente in autonomia chiaro alla fine l'ultima decisione la prende lui però la giustizia è un processo collettivo e quindi chiede sarà un modello magari non è successa quella cosa qua però nella mente di Paolo Diacono di fronte a un atto di ingiustizia da giudicare il re non fa giustizia da solo appunto avvia un processo collettivo rappresentato da questo scambio di battute e succede quella cosa qua chiedendo ancora il re che cosa fosse avvenuto di un ulfo gli rispose che aveva cercato rifugio nella basilica di San Michele Arcangelo subito il re lo mandò a cercare promettendogli di sua iniziativa che non avrebbe patito alcun male purché venisse fidando nella sua fede un ulfo udita tale promessa subito si recò palazzo e gettatosi ai piedi del re fu da lui interrogato su come perterito non fosse riuscito a fuggire qui non abbiamo lo scambio alla pari un ulfo non viene invitato a stare in piedi un ulfo gli riferì ogni cosa per ordine e il re lodando la sua fedeltà e la sua astuzia con clemenza gli concesse di conservare tutte le sue ricchezze e ciò che poteva avere dopo qualche tempo chiedendo il re a un ulfo se avrebbe preferito trascorrere quei giorni con perterito egli con giuramento rispose che avrebbe preferito morire con perterito piuttosto che vivere altrove nel fasto più splendido allora il re di nuovo chiese al vestiario se preferiva vivere a palazzo con lui o essere profugo con perterito anche egli diede una risposta simile a quella di un ulfo e il re accolte benignamente le loro parole e lodata la loro fedeltà disse a un ulfo che poteva prendere dalla propria casa quello che voleva schiavi cavalli e ogni sorta di suppellettili e andarsene senza danno da perterito allo stesso modo lasciò libero anche il vestiario essi prendendo con sé ogni loro cosa secondo la benevolenza del re con l'aiuto del re stesso partirono verso la francia e si recarono dal loro diletto perterito in quel tempo buonasera benvenuto un meme al proposito del vino che però non ricordo se l'ho letto da qualche parte o se l'ho effettivamente studiato su un manuale con letto da qualche parte intendo da una fonte non necessariamente affidabile invece se è su un manuale mi aspetto che ci sia qualcosa di un po' più affidabile sotto un po' più sensato di questi dei galli in questo caso erano i galli perché si parla di storia romana del fatto che una delle operazioni militare avviate da Cesare credo si da Cesare contro i galli fosse relativa al fatto che questi erano degli ubriaconi e si comportavano male quindi è chiaro che un franco come fai lo attilli con il vino è chiaro che di questi tempi lo abbiamo più o meno capito vengono tutti attillati con il vino comunque non fate fact checking non so se sto dicendo una cazzata se sto dicendo una cazzata facciamoci una resata giunge la schiera dei franchi pensando che Grimoaldo e i Longobardi presi dal terrore avessero abbandonato l'accampamento senza portare via nulla allegri si gettano ad era su quelle buone cose e si preparano una cena abbondantissima quando appesantiti delle ore portate dal molto vino si furono acquietati nel sonno Grimoaldo dopo la mezzanotte piombo su di essi e ne fece una tale strage che di loro solo pochi scampati poterono rientrare in patria e il luogo in cui si combattè questa battaglia ancora oggi si chiama Rio dei Franchi e non sta molto dalle porte della città di Asti Rio dei Franchi che qui viene in nota segnalato come Re Francore in provincia di Asti in quei giorni Costantino Augusto che fu chiamato anche Costante bramoso di strappare l'Italia dalle mani dei Longobardi uscì da Costantinopoli e seguendo la costa giunse ad Atene di qui attraverso il mare sbarcò a Taranto da prima si recò da un'eremita che si diceva avesse spirito profetico per chiedergli ansiosamente se sarebbe riuscito a vincere e ad assoggettare il popolo Longobardo che abitava l'Italia il servo di Dio gli chiese una notte di tempo per supplicare su questo signore e fatto sigiorno così rispose all'Augusto il popolo dei Longobardi in nessun modo può essere vinto poiché una regina venuta da un'altra terra ha fatto costruire sul suo Longobardo la basilica del beato Giovanni Battista e perciò il beato Giovanni di continuo intercede per il popolo Longobardo verrà un tempo in cui questo tempio sarà tenuto in dispregio e allora quel popolo opererà e qui se andate a recuperare più tardi sul mio canale YouTube l'ultimo video che ho pubblicato la lettura del contributo di Stefano Gasparri su Rete Medievale c'è una trattazione sul crollo del regno dei Longobardi e viene spiegato come appunto fra tutti anche Paolo Diacono parla del crollo del regno dei Longobardi dovuto alla scarsa aderenza o a un'aderenza non completa o a un'aderenza poco entusiasta tra virgolette al credo cattolico quindi chiaramente questa cosa si collega un po' a questo immaginario hai appunto i Longobardi protetti da Giovanni Battista perché è stato edificato questo tempio in questo tempio questa chiesa al suo nome questa chiesa viene per qualche motivo la regina che l'ha evocata oddio adesso non mi ricordo Teodolin non vorrei dire una cazzata mi sa che Teodolin è quella che abbiamo citato mi sa proprio nel libro quarto appunto viene edificato questo tempio Giovanni Battista protegge perché è stato edificato questo tempio in suo onore e successivamente però per l'incuria per uno scarso entusiasmo viene questa protezione si toglie perché non c'è più la fedeltà che c'era prima e quindi crollo del regno Longobardo Stefano Gasparri si dà un'altra risposta chiaramente dice che questa spiegazione non è sufficiente anche se uno potrebbe immaginare che il fervore religioso dei franchi possa averli aiutati in battaglia contro i Longobardi Stefano Gasparri dà un'altra spiegazione andate a vedere andate ad ascoltare il video non vi dico la spiegazione perché sennò troppo facile voglio voglio farvi lavorare un po' verrà un tempo in cui questo tempio sarà tenuto in dispregio e allora quel popolo opererà noi abbiamo sperimentato che avvenne proprio così poiché prima della rovina dei Longobardi appunto quello che vi stavo dicendo questa basilica del beato Giovanni Battista che si trova a Monza l'abbiamo vista amministrata da gente vile al punto che questo luogo venerabile veniva assegnato agli indigeni agli indegni e agli adulteri non certo per i mietti della loro vita ma per le recompense che distribuivano sembra di leggere un qualche tipo di pubblicista un patarino durante la durante la lotta per le investiture di circa 300 400 anni dopo essendo venuto come dice in Moat Aranto Costante Augusto se ne partì invase il territorio di Benevento e conquistò a Costante in realtà non mi fai un cazzo insomma e conquistò quasi tutte le città Longobarde per le quali passò attaccò con forza e spugnò e distrusse anche Lucera ricca città della Puglia Lucera che diventerà famosissima più avanti perché luogo dove Federico II insedierà i suoi schiavi musulmani schiavi di religione islamica e appunto Lucera in Puglia questa che ritorna anche qui ricca città della Puglia e la rasa al suolo non potete tuttavia conquistare a Gerenzia per la posizione imprendibile del luogo quindi con tutto il suo esercito circondò cominciò ad assalire con violenza Benevento teneva quel ducato Romualdo figlio di Grimoaldo ancora giovinetto questi come seppe dell'arrivo dell'imperatore inviò suo padre al di là del po un suo Baglio di nome Sesualdo per scongiurarlo di venire al più presto e portarlo al soccorso con quante forze aveva Baglio ovviamente è un messaggero scusatemi al figlio ai Beneventani che egli aveva nutriti Re Grimoaldo informato di ciò subito con un esercito mosse verso Benevento per portare aiuto al figlio durante il viaggio molti dei Longobardi lo abbandonarono e ritornarono a casa dicendo che egli aveva spogliato il palazzo e si dirigeva a Benevento per non tornare più frattanto l'esercito dell'imperatore con diverse macchine attaccava violentemente Benevento frattanto l'esercito dell'imperatore con diverse macchine avevano fatto un discorso sulle macchine ad assedio sul fatto che i Longobardi all'inizio ma le usassero nel pieno del loro regno a segnalare che qualcosa stava cambiando nel loro modo di fare la guerra nel loro modo di vivere anche la vita perché delle macchine ad assedio non le costruisci se non hai ingegneri in grado di svilupparle e per gli ingegneri è difficile che tu abbia un popolo semovente semovibile come erano quelli i Longobardi all'inizio durante il loro ingresso in Italia è difficile avere degli ingegneri in situazioni simili chiaro intendo degli ingegneri in grado di sviluppare tecniche per assediare una città città che se sei un popolo seminomade più che semovibile se sei un popolo seminomade forse non ti è proprio chiaro cosa sono qui però stiamo parlando chiaramente dei bizantini frattanto l'esercito dell'imperatore con diverse macchine attaccava violentemente Benevento ma Romualdo con i Longobardi resisteva eroicamente benché per l'eseguità delle sue forze non osasse scontrarsi schiera contro schiera con una così grande moltitudine spesso tuttavia rompendo nel campo dei nemici con giovani armati alla leggera recava loro gravi perdite da ogni parte suo padre Grimoaldo mentre si avvicinava rapidamente mandò al figlio il baglio di cui abbiamo detto per annunciargli il suo arrivo ma questi giunti in vista di Benevento fu fatto prigionire dai greci e portato davanti all'imperatore questi gli chiese di dove venisse rispose che veniva da parte di Grimoaldo che quel re sarebbe presto arrivato spaventato l'imperatore insieme ai suoi prese decisione di far pace con Romualdo per poter tornare a Napoli ricevuta in ostaggio alla sorella di Romualdo che si chiamava Gisa fece pace con lui ordinò poi che il baglio di Sesualdo fosse condotto presso le mura minacciandolo di morte se avesse detto qualcosa a Romualdo o ai cittadini circa l'arrivo di Grimoaldo dicesse invece che questi non poteva venire egli promise di fare come gli era stato ordinato ma giunto presso le mura disse che voleva vedere Romualdo e a Romualdo subito accorso così parlò e resisti mio signore Romualdo si fiducioso e non turbarti perché tuo padre presto sarà qui per portarti aiuto ciao Alessandro buonasera benvenuto sappi che egli questa notte si è accampato con un forte esercito vicino al fiume Sangro soltanto ti prego di dimostrare compassione per mia moglie e per i miei figli perché questa perfida gente non mi lascerà in vita ciò detto per ordine dell'imperatore gli fu tagliata la testa e con una macchina da guerra che chiamano Petraria cioè una macchina chiaramente che lanciava pietre fu scagliata dentro la città poveretto Romualdo ordinò che gli portassero quella testa e la baciò piangendo il solito gesto del bacio e dispose che fosse tumulata in un degno sepolcro qui c'è una nota fatemi vedere se davvero le ah ok no speravo mi dicesse dove era questo degno sepolcro preoccupato dunque l'imperatore per l'inatteso arrivo del re Romualdo tolce l'assedio benevento e si diresse verso Napoli presso le acque del fiume Calore in un luogo ancora oggi chiamato Pugna il suo esercito fu duramente battuto da Mitola conte di Capua giunto l'imperatore a Napoli uno dei suoi ottimati di nome Saburo come si narra chiesa da Augusto ventimila uomini e promise che avrebbe affrontato vittoriosamente Romualdo ottenuto l'esercito e giunto in un luogo chiamato Forino vi pose l'accampamento Gremualdo che era già arrivato a Benevento non appena lo seppe decise di muovergli contro gli disse il figlio Romualdo non ce n'è bisogno dateci soltanto una parte del vostro esercito la affronterò io con l'aiuto di Dio e quando avrò vinto sarà data maggior gloria alla vostra potenza così avvenne ricevuta una parte dell'esercito del padre insieme ai suoi uomini marciò contro Saburo prima di attaccare battaglia fece suonare le trombe in quattro direzioni e subito si lanciò con audacia su di loro mentre i due schieramenti combattevano con accanimento uno dell'esercito del re di nome Amalongo che di solito portava il vessillo del re issato sulla lancia percorse forte con quella stessa lancia a mani unite un greco lo prese dalla sella su cui cavalcava e lo sollevò per aria sopra il suo capo minchia vedendo ciò l'esercito dei reci preso all'improvviso dall'immenso terrore si volse in fuga e fatto rovinosamente a pezzi fuggendo procurose morte a Romualdo e ai Longobardi vittorie sì un discorso che sento rilanciato spesso dagli storici militari che studiano i conflitti del medioevo nel momento in cui qualcuno inizia a scappare hai perso la battaglia non c'è più modo per gestire un esercito e il tuo scopo come comandante militare il tuo scopo è quello per cui preghi nel momento in cui magari perdi un po' il modo di fare di dare comandi alle tue truppe quello per cui preghi è che il tuo esercito stia compatto nel momento in cui inizia a sfaldarsi nel momento in cui qualcuno inizia ad avere un po' di titubanza nel momento in cui le due schiere si mescolano non si riesce più a capire cosa si può fare certo puoi magari riconoscere un longobardo da un bizantino per un'armatura però se non sai chi hai dietro se non sai chi hai di fianco se non sai chi hai davanti vai nel panico scappi se qualcuno ti vede scappare scappi anche tu e nel momento in cui quindi si crea questo mix letale la battaglia è finita e il primo che scappa ha perso allo stesso tempo però non dobbiamo immaginarci quindi le guerre medievali o alto medievali in questo caso come delle brawl degli scontri corpo a corpo mescolati appunto perché in realtà la condizione in cui ci si arrivava a mescolare era verso la fine dello scontro bisogna immaginarsi delle schiere compatte organizzate con vessilli con qualche modo di segnalazione magari delle trombe magari della gente che urlava particolarmente forte e che cerca di manovrare all'interno di un campo in modo più o meno coordinato insomma cerchiamo di portare rispetto a quella che era la scienza militare dell'epoca da regolette romualdo romualdo invece ottenuto la vittoria sui nemici ritorna trionfante a benevento e procurò gioia al padre e a tutti sicurezza eliminando la paura del nemico ma l'imperatore costante vedendo di non aver concluso nulla contro i longobardi ritorse le minacce del suo animo crudele contro i suoi cioè i romani infatti uscito da napoli si diresse a roma al sesto miglio della città il papa vitaliano con i sacerdoti e il popolo romano gli venne incontro l'augusto quando giunse alle soglie di Beato Pietro offre una tovaglia d'altare in tessuta d'oro fermato sia a roma per 12 giorni abbatte tutto quanto dall'antichità era stato innalzato con bronzo per ronare la città al punto da scoperchiare la basilica della Beata Maria chiamata in antico Pantheon poiché era un tempio edificato in onore di tutti gli dèi e successivamente per concessione dei precedenti principi era diventato la chiesa di tutti i martiri e portar via da essa le tegole di bronzo per mandarle a Costantinopoli ritornato a Napoli continuò il viaggio per terra fino a Reggio entrato in Sicilia durante la settima indizione si fermò a Siracusa e al popolo sia agli abitanti della Calabria della Sicilia dell'Africa e della Sardegna sia a quelli che vivevano dei possessi impose delle tassazioni così dure quali non si erano mai prima sentite al punto che le mogli furono separati dai mariti i figli dai padri ma molti altri inauditi furono i mali che quei popoli dovessero sopportare sì che non c'era alcuno che avesse speranza di sopravvivere per ordine dell'imperatore e per la cupidigia dei reci furono portati via i vasi consacrati e i tesori delle sante chiese di Dio l'imperatore rimase in Sicilia dalla settima indizione fino alla dodicesima ma alla fine pagò il fio di tanta iniquità e mentre faceva il bagno fu ucciso dai suori e qui siamo nel luglio 668 ucciso dunque a Siracusa l'imperatore Costante assunse il regno in Sicilia a Mecezio ma senza consenso dell'esercito d'Oriente contro di lui marciarono su Siracusa i soldati d'Italia alcuni attraverso l'Istria altri per la Campania altri dalla zona dell'Africa e della Sardegna e lo uccisero molti dei suoi giudici decapitati furono fatti giungere a Costantinopoli e insieme a questi venne trasportata anche la testa del falso imperatore all'udire queste cose il popolo dei Saraceni che già aveva invaso Alessandra e tutto l'Egitto giungendo all'improvviso con molte navi invade la Sicilia ma entra in Siracusa fra grande strage della popolazione ben pochi riescono a fuggire chi rifugiandosi nei castelli ben fortificati chi sulle cime dei monti porta via un immenso bottino tra cui tutto ciò che Costante e Augusto aveva trafugato da Roma in ornamenti di bronze e di diverse specie e ritorna ad Alessandria la figlia del re che abbiamo detto essere stata condotta via quale ostaggio da Benevento giunta in Sicilia concluse l'estremo giorno a quel tempo ci furono così grandi piogge così grandi tuoni come mai a memoria d'uomo si ricordava e migliaia e migliaia di uomini ed animali rimasero uccisi dai fulmini in quell'anno i legumi che per la pioggia non si potevano raccogliere rispuntavano maturarono una seconda volta Gremualdo dopo aver sottratto i greci Benevento e le sue province disponendosi a tornare nel suo palazzo a Pavia nominò duca di Spoleto Transemundo che era stato conte di Capua e lo aveva validissimamente aiutato a ottenere il regno e gli diede in sposa sua figlia la seconda sorella di Romualdo Transemundo succedeva ad atto di cui abbiamo parlato in precedenza quindi il re ritornò a Pavia morto come abbiamo già detto il duca del Friuli Grasulfo il duca altro fu assegnato ad Agone dal cui nome ancora oggi un palazzo di Cividale si chiama Casa di Agone morto Agone fu fatto duca al lupo questi per una strada che in antico era stata costruita attraverso il mare entrò con la cavalleria nell'isola di Grado che non è lontana da Aquileia mise a sacco la città recuperò e riportò via di lì i tesori della chiesa di Aquileia a questo lupo Gremualdo aveva affidato il suo palazzo quando si era arrecato a Benevento mentre il re era assente lupo a Pavia non si era comportato in molti casi con arroganza poiché non pensa scusatemi lupo a Pavia si era comportato in molti casi con arroganza poiché non pensava che il re sarebbe tornato ma quando il re fece il ritorno ben sapendo che a questi non sarebbe piaciuto quello che aveva fatto contro giustizia ritiratosi in Friuli conscio della propria malvagità si ribellò allora Gremualdo che non voleva suscitare una guerra civile tra i Longobardi mandò a dire al Cacano re degli avari che venisse con un esercito nel Friuli contro il duca lupo e in guerra lo abbattesse il che avvenne il Cacano giunse con un grande esercito in un luogo detto flovio come ci hanno riferito i vecchi che parteciparono a quella battaglia e per tre giorni il duca combatté con i suoi contro il nemico nel primo giorno prostrò al forte esercito del re e pochi dei suoi furono feriti nel secondo giorno tra i suoi ebbe un certo numero di feriti uccisi ma ugualmente tolse la vita a molti fra gli avari il terzo giorno benché fossero feriti ormai o spenti gran parte dei suoi non di meno annientò il grande esercito del Cacano e si possessò di un abbondante preda ma nel quarto giorno si videro venire addosso una tale moltitudine di uomini che a stento poterano mettersi in salvo con la fuga ucciso sul campo il duca lupo i sovravvissuti si fortificano nei castelli gli avari dilagano per tutto il territorio mettono sacco ogni cosa o vi appiccano il fuoco dopo che ebbero continuato così per alcuni giorni da gremualdo fu ordinato di sospendere il saccheggio ma essi gli mandarono un basciatore per fargli sapere che non avrebbero abbandonato il friuli dato che l'avevano conquistato con le loro armi i regni hanno breve vita se sono affidati se sono conquistati con le armi dei mercenari diceva un tale Nicolò del Cinquecento allora gremualdo spinto dalla necessità ordinò che si radunasse l'esercito per cacciare via dalle sue terre agli avari in mezzo alla pienura pose il suo accampamento e davanti al luogo dove erano alloggiati gli avari e poiché aveva una piccola parte dell'esercito per molti giorni fece passare più e più volte davanti agli occhi degli ambasciatori quegli stessi soldati di cui disponeva con abito sempre diverso e schierati con vari armamenti come se continuamente arrivassero nuove forze gli ambasciatori degli avari vedendo lo stesso esercito passare in fogge sempre diverse credetero che i lungobardi fossero una moltitudine inesterminata disse loro Gremualdo con tutta questa moltitudine che avete visto ero un po' subito sul cacano e sugli avari se non escono rapidamente dal friuli viste e udite queste cose gli ambasciatori le riferirono al loro re e subito col suo esercito se ne tornano nel suo regno ucciso lupo nel modo che abbiamo detto suo figlio Arnefrid volle ottenere il ducato dal posto del padre ma temendo le forze del re Gremualdo fuggì presso la popolazione degli slavi a Carnunto che essi malpronunciando chiamano Carantano quindi tornando con gli slavi per riprendersi il ducato con le loro forze presso il castello di Nimis non molto lontano da Civitale fu attaccato dai friolani e ucciso quindi fu nominato duca del friuli Wektari originario di Vicenza uomo benigno che governava il popolo con mitezza la gente slava ha avuto la notizia che egli era partito per Pavia messa insieme una robusta moltitudine decise di fare eruzione su Civitale e arrivata si accampò a Brossana non lontano dalla città per disposizione divina avvenne che il duca Wektari la sera prima tornasse da Pavia senza che gli slavi lo sapessero dopo che i suoi conti come di consueto ebbero fatto ritorno alle loro case egli udita la notizia degli slavi con pochi uomini venticinque per l'esattezza mosse contro di loro gli slavi vedendolo venire con così pochi lo derisero dicendo che stava arrivando contro di loro il patriarca con i suoi chierici ma avvicinatosi al ponte del fiume Natisone dove erano accampati gli slavi Wektari si tolse l'elmo dal capo e mostrò loro il suo volto era infatti calvo appena gli slavi vedono che è il duca cioè il fatto che fosse calvo significa che è il duca subito turbati si mettono si mettono a gridare Wektari è qui e poiché Dio mette in essi il terrore pensano più a scappare che a combattere allora Wektari reggettandosi sul velo con i pochi uomini che ha ne fa tale strage che di 5.000 uomini appena pochi sopravvissero per fuggire dopo questo Wektari Civitale tenne il ducato Laudari morto lui nel ducato gli successe Rodoaldo morto come abbiamo onorato il duca lupo il re Gremualdo unì in matrimonio la di lui figlia Teoderada con il proprio figlio Romualdo che governava Benevento da essa Romualdo ebbero i tre figli Gremualdo Gisulfo e Arikis il re Gremualdo vendicò le offese su tutti coloro che lo avevano abbandonato quando era partito per Benevento anche Forlimpopoli città dei Romani i cui cittadini avevano commesso contro di lui atti di ostilità allorché si dirigeva Benevento e aveva spesso fatto del male i suoi messi che si recavano o tornavano da quella città fu da lui distrutta in questo modo al tempo della Quaresima entrò in Toscana entrato in Toscana attraverso il Monte Bardone ovvero la strada nazionale la SS 62 la strada che passa per che collega Parma via Spezia passa dal Monte Bardone sopra Borgotaro sono casa mia fondamentalmente bei posti se siete lì prendete strada nazionale 62 la SS 62 fatevi un giro in moto perché è veramente spettacolare il passo della Cisa spero ne abbiate sentito parlare anche se venite da mille chilometri distante veramente un posto bellissimo che io vi consiglio assolutamente di frequentare attraverso il Monte Bardone senza che i Romani si ne accorgessero perché non era una via molto utilizzata dai Romani quella del Monte Bardone diventa molto importante nella fase del Tardo Impero e diventa definitivamente una strada fondamentale vitale soltanto con i Longobardi l'Emilia come una terra viaria e la Parma il territorio di Parma come una terra di vie tra cui soprattutto la via di Monte Bardone senza che i Romani se ne accorgessero il santissimo sabato di Pasqua fiombò l'improvviso sulla città nell'ora in cui si amministrava il battesimo terribile questa cosa e compì una tale strage che nel sacro fonte furono massacrati gli stessi diaconi che stavano battezzando i bambini inferse a quella città un colpo tale che ancora oggi in essa rimangono pochissimi abitanti Grimoaldo aveva contro i Romani un fortissimo odio perché una volta tradendo la parola data aveva ingannato i suoi fratelli Taso e Cacco avevano ingannato i suoi fratelli Taso e Cacco perciò la città di Oderzo dove erano stati uccisi fu da lui distrutta dalle fondamenta e le terre di quelli che l'abitavano furono divise tra gli abitanti di Cividale Treviso e Ceneva a quel tempo il duca dei Bulgari Alzecone non si sa per quale motivo lasciata la sua gente ed è entrato pacificamente in Italia con tutto l'esercito del suo ducato venne dal re Grimoaldo e promise di porsi al suo servizio e distanziarsi nella terra di lui questi lo mandò dal suo figlio Romualdo a Benevento ordinandogli di concedere ad Alzecone delle terre perché vi potesse abitare con il suo popolo e il duca Romualdo accogliendoli benevolmente assegnò loro una vasta regione fino ad allora abbandonata e la città di Seppiano Boviano Isernia e altre con i loro territori e ordinò altresì che Alzecone mutasse il suo titolo e anziché duca fosse chiamato Gastaldo i Bulgari abitano ancora oggi in quei luoghi e benché parlino anche il latino non hanno tuttavia perso l'uso della propria lingua il fatto che viene mutato il titolo da duca a Gastaldo il Gastaldo è una figura pubblica interpretata più come alle dipendenze del re mentre il duca solitamente è uno dei famosi pares della formula primus inter pares invece il Gastaldo è più un funzionario una sfumatura abbastanza netta abbastanza chiara da questo punto di vista è significativa in questo contesto non fidatevi mai di quello che dico io questa cosa la so studiata l'anno scorso due volte perché non mi sono accontentato in 25 ho voluto prendere 27 però nel dubbio voi la laurea ancora non ce l'ho controllate non fidatevi approfondite quello che vi dico capiterò la volta che mi sbaglierò e sarà stato meglio che voi abbiate controllato scusatemi ho ucciso in Sicilia come abbiamo detto l'imperatore Costante e punito il tiranno Mecezio che gli era succeduto assunse la direzione dello stato romano al figlio di Costante Costantino che tenne il principato per 17 anni al tempo di Costante l'arcivescovo Teodoro e il abate Adriano uomini coltissimi furono mandati da Papa Vitalino in Britannia dove fecondarono con i semi della dottrina ecclesiastica molte chiese degli angli mentre era fra essi il vescovo Teodoro descrisse con mirabile e meditata argomentazione i giudizi sui peccatori e per quanti anni per ciascun peccato uno debba fare penitenza in seguito nel mese di agosto apparve orientare una stella cometa di luce fulgidissima che poi fatto un giorno un giro su se stessa scomparve subito seguì dalla stessa parte d'Oriente una grave pestilenza che seminò molte vittime fa il popolo romano in quei giorni Domno il Papa della Chiesa Romana la strecò mirabilmente con splendidi e grandi marmi il luogo detto Paradiso davanti alla Basilica del Beato Pietro in questo tempo reggeva il Regno dei Franchi in Gallia da Goberto con cui il re Gremualdo aveva stretto un saldissimo patto di pace per Chtarito che si era stabilito nel Regno dei Franchi temendo le forze di Gremualdo uscì dalla Gallia e decise di recarsi nell'isola di Britannia dal re dei Sassoni ma Gremualdo dò nove giorni dopo una flebotomia mentre stava nel suo palazzo prese l'arco e sforzandosi di colpire una colombra con una freccia si rompe una vena del braccio madonna i medici come si narra gli applicarono dei medicamenti velenosi così gli tolcero del tutto questa luce siamo nel 671 egli nell'editto emanato da Rotary aggiunse alcuni capitoli di leggi che gli sembravano utili fu fortissimo di corpo primo nell'ardimento calvo e con una gran barba non meno dotato di saggezza che di forza il suo corpo fu sepolto nella Basilica del Beato Ambrogio confessore che egli stesso aveva fatto costruire dentro Pavia egli occupò il regno dei Longobardi dopo un anno e tre mesi alla morte di Ariperto e lo tenne per nove anni lasciandolo poi il suo figlio Garipaldo che aveva avuto dalla figlia del re Ariperto re ancora in teneretà quindi come avevamo cominciato a narrare per Tarito uscito dalla Gallia salì su una nave per passare nell'isola di Britannia nel regno dei Sassoni dopo alquanto tempo che navigava in mare aperto dall'ido su di la voce di uno che chiedeva se per Tarito si trovasse su quella nave ed essendo stato risposto che c'era quegli che gridava aggiunse ditegli che ritorni nella sua patria poiché sono tre giorni che Gremualdo è stato sottratto a questa luce udito udito ciò per Tarito subito tornò indietro sceso sulla spiaggia non pote trovare traccia della persona che gli aveva annunciato la morte di Gremualdo penso a così che questo messaggero non fosse un uomo ma venisse da Dio mentre di lì tornava in patria giunto alle chiuse d'Italia trova ad aspettarlo tutti i dignitari del palazzo e già preparata tutta la regale dignità assieme alla gran folla di Longobardi appena rientrato in casa mio padre e sta ululando assieme al cane tornato in pavia e rimosso dal regno il fanciullo Garepaldo tre mesi dopo la morte di Gremualdo fu da tutti i Longobardi levato al trono era un uomo pio cattolico per fede e sostenitore della giustizia generosissimo nel nutrire i poveri subito mandò scusate mi fa ridere questa cosa subito mandò un messo a Benevento non so se lo potete sentire però la strada subito mandò un messo a Benevento e richiamò di sua moglie Rodolinda e il figlio Kunikperth assunto il potere regale in quel luogo che da sul fiume Ticino da dove un'oltre ha fuggito costruì al suo signore liberatore il monastero che si chiama Nuovo in onore di Sant'Agata Vergine Martire in esso riunì molte vergini e lo arricchi di benefici e diversi ornamenti anche sua moglie della regina Rodolinda fece costruire con lavoro mirabile una basilica alla Santa Madre di Dio fuori dalle muro della città di Pavia chiamata Alle Pertiche e l'abbè lì di splendide opere quell'uomo quel luogo si chiama Alle Pertiche perché una volta c'erano delle Pertiche cioè delle travi rette che solevano essere disposte a quel modo secondo un uso Longobardo per questa ragione se uno moriva da qualche parte o in guerra o in qualche altro modo i suoi parenti piantavano fra i loro sepolchi una Pertica sulla cui su metà mettevano una colomba di legno rivolta in direzione del luogo in cui il loro caro era morto ciò per sapere da che parte riposasse colui che era morto per Ctareito dopo aver regnato da solo per sette anni nell'ottavo anno si associò nel regno a suo figlio Cunicperto insieme al quale regnò per dieci anni mentre vivevano in una grande pace e intorno da ogni parte si sentivano tranquilli si levò contro di essi il figlio dell'iniquità di nome Alachis per opera del quale turbata la pace nel regno dei Longobardi furono fatte grandi stragi fra le popolazioni questi quando era duca di Trento combatté col conte dei Bavari che si chiamano Gravione il quale reggeva Bolzano e gli altri castelli e ottenne una magnifica vittoria insuperbitosi per questa ragione levò la mano anche contro il suo re Pertarito e ribellandosi si fortificò dentro il castello di Trento Pertarito avanzò contro di lui e mentre lo assediava dall'esterno Alachis uscito di sorpresa con i suoi della città distrusse l'accampamento del re e costrinse lo stesso re a fuggire scusatemi un po' non un po' provato tuttavia in seguito per intercessione di Kunikperto figlio del re che già da tempo aveva molto affetto per lui ritorna in grazia al re Pertarito avendo questo re più di una volta deciso di mandarlo a morte suo figlio Kunikperto sempre impedì che lo facesse stimando che in seguito egli sarebbe rimasto fedele necessario di insistere presso suo padre perché gli assegnasse anche il ducato di Brescia benché Perctarito spesso lo rimproverasse dicendo che Kunikperto faceva ciò a sua rovina dato che offriva a un suo nemico delle forze per conquistarsi il regno la città di Brescia ebbe sempre una grande moltitudine di nobili longobardi con l'aiuto dei quali Perctarito temeva che Alachis diventasse troppo potente in quei giorni il re a Pavia costruì con un mirabile lavoro una porta continua alla reggia che è detta anche Palatina Perctarito dopo 18 anni di regno dapprima da solo poi con il figlio Kunikperto fu sottratto a questa luce e il suo corpo venne sepolto presso la basilica del Salvatore che aveva costruito sopra da Ariperto fu di bella statura di corpo robusto mite e dolce in ogni cosa scusatemi sto controllando quante pagine mancano alla conclusione del libro perché sono veramente molto provato ma se citerei a finirlo a questo punto si lo finiamo tranquillamente il re Kunikperto prese in moglie Hermelinda di stirpe anglosassone ella avendo visto al bagno Teodote una fanciulla di nobilissime stirpe romana di corpo leggiato ornata di biondi capelli lunghi quasi fino ai piedi ne lo dò la bellezza con il marito il re Kunikperto egli dissimulando il piacere che provava ad ascoltare ciò dalla moglie si infiammò di grande amore per la fanciulla senza indugio si recò a cacciare in un bosco che si chiama Urbe e ordinò suo moglie Hermelinda di accompagnarlo ma la notte allontanatosi da lì tornò a Pavia e fatta venire a sé la fanciulla Teodote giacque con lei poi la mandò nel monastero dentro la città di Pavia che ha preso il nome da lei Alachis dando ormai alla luce l'iniquità già da tempo concepita spalleggiato dal done e da grausone cittadini mresciani ma anche da molti altri lungobardi dimenticando i tanti benefici che il re Kunikperto gli aveva concesso scordando anche il giuramento con cui si era impegnato a mantenersi fedelissimo mentre Kunikperto era assente occupò il regno e il palazzo di Pavia avuto notizia di ciò nel luogo in cui si trovava il re si rifugiò in un'isola del lago Lario non lontano da Cormo e lì allestì forti difese ci fu una vera persecuzione di tutti coloro che lo amavano e soprattutto di sacerdoti e chierici che Alachis aveva tutti di Nobio era in quel tempo vescovo della chiesa di Pavia l'uomo di Dio Damiano in signa per santità e notevolmente colto nelle arti liberali egli vedendo che Alachis aveva occupato il palazzo reale per non dover patire lui e la sua chiesa qualche sciagura da parte del re gli mandò il diacon Tommaso uomo sapiente e religioso e per mezzo suo inviò ad Alachis la benedizione della sua santa chiesa fu comunicata da Alachis che il diacono Tommaso aveva davanti alla porta stava davanti alla porta e recava la benedizione del vescovo allora Alachis che come abbiamo detto aveva in odio tutti i chierici così parlò a lui ai suoi andate e ditegli che se ha le bracche pulite entri se no tenga fuori i piedi Tommaso udite queste parole così rispose ditegli che ho le bracche pulite perché oggi me le sono messe appena lavate e Alachis di nuovo gli mandò a dire non parlo delle bracche ma di quello che vi sta dentro a queste parole Tommaso rispose andate e ditegli Dio solo può trovare in me motivo di riprensione a questo proposito lui in nessun modo lo può e quando Alachis ebbe fatto venire davanti a sé il diacono gli parla con asprezza e insolenza allora i chierici e i sacerdoti furono presi da paura e da odio per il tiranno ritenendo che non avrebbero potuto sopportarne la bestialità e cominciavano tanto più a sospirare il ritorno di Kunikperto quanto più esacravano il superbo usurpatore del regno ma la brutalità e la cura delle barbarie non dominavano così a lungo il regno che avevano occupato finalmente mentre un giorno contava delle monete sulla mensa gli candide giù un tremesse dal tavolo il figlio di Aldone ancora bimbetto glielo raccolse da terra e glielo restituì Alachis pensando che il fanciullino capisse poco parla così tuo padre ne ha molti di questi e se Dio vuole sta per darmeli molto presto quando la sera il bimbo ritornò a casa dal padre e questi gli chiese se quel giorno il re gli avesse detto qualcosa il bimbo gli raccontò tutto quello che era avvenuto e quello che il re aveva detto udendo questo Aldone si spaventò molto e chiamato suo fratello Grausone gli riferì la maligna frase del re subito assieme agli amici e alla persona di cui poteva fidarsi tengono consiglio su come provare il regno del regno del tiranno Alachis prima che potesse far loro del male recatisi assai per tempo a palazzo disse Roda Alachis perché di rassegna è stato chiuso qui in città ecco che tutta la città e tutto il popolo ti sono fedeli e quell'ubriacone di Cunicperto è così disfatto che non potrà mai più riavere le sue forze esci e va a caccia esercitati con i tuoi giovani noi con gli altri tuoi fedeli difenderemo per te questa città anzi ti promettiamo che assai presto ti porteremo alla testa del tuo nemico Cunicperto persuoso dalle loro parole uscì fuori dalla città e partì per la vastissima selva di Urbe e lì cominciò a darsi ai divertimenti della caccia Aldone e Grausone allora raggiunto il lago di Como e saliti su una nave si recarono da Cunicperto giunti alla sua presenza gli si gettarono ai piedi confessando di aver agito iniquamente contro di lui gli raccontarono inoltre ciò che Alachis aveva detto malvagiamente contro di loro e quale consiglio gli aveva dato per rovinarlo gli avevano dato per rovinarlo che più piansero insieme si scambiavano giuramenti stabilendo il giorno in cui Cunicperto sarebbe venuto ad essi ed essi gli avrebbero consegnato la città di Pavia così avvenne nel giorno fissato Cunicperto giunse a Pavia e accolto da loro con immensa gioia entrò nel suo palazzo allora tutti i cittadini soprattutto il vescovo e i sacerdoti i chierici giovani e vecchi a gara corsero da lui abbracciandolo con le lacrime e gli occhi e pieni di immensa gioia gridavano grazie a Dio per il suo ritorno ed egli per quanto poteva li baciava tutti all'improvviso un messaggero raggiunse Alachis per degli che Aldone e Grausone avevano adempiuto ciò che avevano promesso gli avevano portato la testa di Cunicperto e non solo la testa ma tutto il corpo e lui già risiedeva nel palazzo udendo ciò si abbatté nell'animo e minacciando Furebondo Aldone e Grausone e digregnando i denti se ne partì quindi attraverso Piacenza ritorna nella parte orientale e legò a sé le città una a una facendosi alleate parte con le lusinghe e parte con la forza di fatti quando giunse Vicenza i cittadini uscirono contro di lui e lo affrontarono in battaglia presto vinti diventarono suoi alleati uscito da Vicenza occupò Treviso e nello stesso modo anche le altre città mentre Cunicperto raccoglieva contro di lui un esercito i friulani per la loro fedeltà vollero muovere in suo aiuto ma Alarchis attestatosi presso il ponte del Livenza che dista 48 miglia da Cividale ed è sulla strada di Chissire Capadia si nascose in un bosco detto Capulano e poiché l'esercito dei friulani procedeva in ordine sparso man mano che giungevano li costringeva a giurargli fedeltà facendo bene attenzione che nessuno di costoro tornasse indietro e avvertisse di ciò quelli che stavano venendo così tutti quelli che si erano mossi da Cividale furono legati a lui con giuramento che più giunti l'uno di fronte all'altro Alarchis con tutta la parte orientale e Cunicperto con i suoi posero gli accampamenti in una pianura detta chiamata Coronate Cunicperto inviò un messaggero a dirgli che lo sfidava singolo attenzone e non c'era bisogno di mettere a repentaglio gli eserciti entrambi a questa proposta Alarchis non consentì e poiché uno dei suoi toscano di stia qualificandolo uomo forte e bellicoso lo spronava a uscire coraggiosamente contro Cunicperto Alarchis gli rispose Cunicperto anche se un buracone di animo stupido è molto audace e di forza eccezionale al tempo di suo padre quando eravamo giovinetti si tenevano nel palazzo dei montoni di straordinaria grandezza lui li afferrava per la lana del dorso e tenendo il braccio li sollevava da terra cosa che io non riuscivo a fare udendo ciò il toscano gli disse se non hai il coraggio di affrontare Cunicperto a singola attenzione non mi avrai più alleato in tuo aiuto e detto ciò si precipitò fuori e si rifugiò presso Cunicperto raccontandogli quanto era avvenuto l'una e l'altra schiera come abbiamo detto si trovarono di fronte nella pienura di coronate e avvicinandosi il momento dello scontro Senone diacono della chiesa di Pavia che era custode della basilica del beato Giovanni Battista poiché amava molto il suo re e temeva che potesse essere ucciso in guerra gli disse oh signore re la nostra vita sta tutta nella tua salvezza se tu morrai in guerra questo tiranno alacris ci ucciderà tutti con diversi supplizi accetta dunque la mia proposta dammi le tue armi e andrò io ad affrontare questo tiranno se morirò tu potrai riacquistare il tuo grado se vincerò ti sarà scritta una gloria maggiore poiché avrai vinto per mezzo di un tuo servo poiché il re diceva che non l'avrebbe mai fatto i pochi suoi fedeli che gli stavano vicino cominciarono a pregarlo con le lacrime agli occhi che desse il suo consenso alla proposta del diacono alla fine Danimo Pio come era vinto dalle loro preghiere e lacrime diede la sua corazza l'elmo gli schienieri e le altre armi al diacono e lo mandò in battaglia assegnandogli la sua parte il diacono che era della sua stessa statura e portamento sicché quando uscì armato dalla tenda fu creduto da tutti i re con Icperto scusatemi il diacono era della sua stessa statura e portamento sicché quando uscì armato dalla tenda fu creduto da tutti i re con Icperto così si venne a battaglia e si combatte con tutte le forze e poiché all'acchi spuntava soprattutto dove credeva fosse il re convinto di uccidere con Icperto uccise il diacono senone e avendo ordinato di tagliargli la testa poiché sollevatela su una lancia potessero gridare grazie a Dio tolto gli l'elmo si accorse di aver ucciso un chierico allora fuori bonde esclamò oimè non abbiamo risolto niente abbiamo combattuto questa battaglia per uccidere un chierico ecco il voto che ora faccio se Dio mi darà di nuovo la vittoria riempirò un pozzo con testicoli di chierici bel mondo per ringraziarsi Dio frattanto Kunikperto visto che i suoi avevano avuto la peggio subito si mostrò a essi e tolta la paura riconfortò il cuore di tutti a sperare nella vittoria una seconda volta vengono schierati gli eserciti e da una parte Kunikperto dall'altra Alachis si dispongono alla contesa delle armi quando ormai era vicino il momento in cui le due schiere avevano preso contatto Kunikperto di nuovo mandò a dire ad Alachis ecco quanto proprio l'è schierato da una parte e dall'altra che bisogno c'è che tanta gente muoia scontriamoci noi tu e io a singolar tenzone e a chi di noi due Dio vorrà concedere la vittoria e quegli abbia tutto questo popolo salvo e incolume e poiché i suoi lo risultavano ad accettare ciò che Kunikperto gli proponeva Alachis rispose non posso farlo poiché fra le sue lance vedo l'immagine di San Michele Arcangelo su cui io gli ho prestato giuramento allora uno dei suoi per paura gli disse vedi quello che non c'è e ormai è troppo tardi per pensare a queste cose così le due schiere incrociarono le armi fra lo strepito delle trombe e senza che nessuna parte cedesse ci fu una grandissima strage di popoli finalmente il crudele tiranno Alachis cadde morto e Kunikperto con l'aiuto di Dio ottenne la vittoria anche l'esercito di Alachis accortosi della sua morte cercò la salvezza nella fuga e chi non abbatté la punta della lancia lo sommersa il fiume Adda la testa di Alachis fu mozzata le sue ginocchia spezzate evidentemente forse sarebbe scappato e il suo cadavere rimase mutilato e in forma a questa guerra non partecipò l'esercito dei friulani poiché avendo prestato giuramento contro la propria volontà di Alachis non vuole portare aiuto né ad Alachis né a Kunikperto e quando attaccarono battaglia se ne tornò a casa propria morto in questo modo Alachis Re Kunikperto diede ordine di seppellire con grandi onori il corpo del diacono Senone davanti alle porte della basilica del Beato Giovanni che egli aveva retto poi di nuovo sovrano fra le sultanze di tutti e col trionfo della vittoria ritornò a Pavia fine del libro quinto sono senza fiato sono onestamente senza fiato abbiamo però concluso e direi che quindi ora cercheremo di capire come funziona come accidenti funziona questa cosa della registrazione dello spazio e una volta che l'ho capito direi che lo ricondividerò qui ricondividerò la live su youtube per chi non è ovviamente potuto partecipare e noi ci diamo appuntamento a giovedì 27 gennaio sempre a quest'ora 21.30 per concludere quello che è stato questo breve ma anche lungo viaggio iniziato a dicembre e che devo dire personalmente ho apprezzato particolarmente spero sia stato anche di vostro godimento fino ad ora e spero sarà di vostro godimento anche la settimana prossima quando giungeremo quindi a conclusione grazie a tutti grazie a tutti grazie a chi c'è stato grazie a chi non c'è stato e buona serata buona continuazione ciao ciao